Ehi, fermatevi un attimo, che ho una cosina da dirvi! Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai! Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi! Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale! Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te! Questa è Arte per te! Arte per te! Arte per te! Cioè, ci sono sempre, voi lo vedete, che vi do il buongiorno, la buonanotte, vengo qualche volta su Facebook e vi dico che fate, ci prendiamo il caffè, però non sono assirua come sempre! Bene, non vi preoccupate, questa cosa finirà a metà settembre tranquillamente, perché per quella data avrò fatto le mie tre consegne bestiali! E quindi sarò più libera e avrò di nuovo più tempo da trascorrere con voi! Figuratevi, non sto neanche tanto, mi piange il cuore perché lascio mio figlio e mia mamma dalla mattina alla sera! E insomma, però il lavoro è così, non specialmente il mio, cioè quando troppo e quando niente! E questo è un momento veramente, veramente di piena, ringraziando il Signore! Comunque, volevo solamente dirvi questo, volevo dirvi semplicemente che vi penso sempre tanto, 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 che siete sempre nei miei pensieri, che il mio cervellino è sempre in movimento per creare nuovi video, volevo sapere come state e naturalmente volevo scusarmi con voi anche per non aver fatto il sorteggio degli instant, che invece farò proprio in questo momento! Quindi state a sentire chi ha vinto gli instant, eccomi qui per estrarre il vincitore degli instant, allora prendo l'url del video, copio e vado su suadeo, che sarà il nostro mezzo per sorteggiare, incollo l'url, numero di vincitori 1, arte per te e vediamo chi è il vincitore! E tac! Vediamo, 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 attendiamo, attendiamo, mazza quanto è lungo! Scusate ragazzi se vi ho fatto aspettare così tanto, ma veramente in questo periodo non ho avuto un attimo di tempo! Il vincitore è Multigabri 2000, con il commento numero 1, ecco qua, Multigabri 2000! E allora Multigabri 2000, mettiti in contatto con me, mandami il tuo indirizzo e io sarò felicissima di mandare gli instant al bimbo che rappresenti! Spero bimbo, bimba, adesso vedremo, mi andrò a leggere, vediamo, c'è il commento cliccando, vediamo, mi chiamo Gabriele, vediamo che dice, facciamo i curiosi! Mi chiamo Gabriele come mio marito, ho 12 anni, sono nato il 5-7-2001 come me, sono un grande appassionato, la mia materia preferita, a scuola, la storia dell'arte, non ho fratelli né sorelle, non c'è giorno che non mi metta davanti al computer a vedere se tu hai fatto qualche video, magari guardo qualche, il video antecedente giusto per infrescare la memoria, io spero di poter vincere, incrocio le dita e attendo la risposta, spero che tu leghi questo commento, grazie, i miei genitori hanno dato il permesso, fantastico, Multigabri, è scritto tutto e allora, bravissimo, sei tu il vincitore! Multigabri 2000, sono contentissima che abbia vinto un ragazzino di 12 anni, non si può dire un bambino, è un ragazzino, un ragazzo di 12 anni, che farà tanti nuovi esperimenti con queste tempere solide, bene, un bacio grande e grazie a tutti per aver partecipato, e non demordete, ci saranno presto nuovi giveaway su Arte per Te! E allora, questi Instant Play Color che sono piaciuti veramente, veramente tanto, bene, mi fa piacere, il vincitore si mette in contatto con me, mi mandi il suo recapito, spero che il vincitore si diverta un mondo a colorare con questi colori speciali e noi ci vediamo presto! Forse non vi accorgerete della mia assenza con i video, perché sto girando un po' di video e quindi ve li metterò, via via per queste due settimane, ma su Facebook ritorno presente più di prima e ricominciamo anche il corso di disegno! Quindi temperate le matite, temperate le matite che ritorno presto! Vi mando un grande bacio e da ombretta ad arte per te è tutto, arrivederci!